LIS Dove sono? Perché non ricordo niente Io sono il suo Medical Interface Liaison Operator Milo Sono malata Nessuna malattia o anomalie rilevate Non sono malata Milo sbloccaggio Al momento è sconsigliato procedere allo sbloccaggio Milo ti supplico apri Non posso soddisfare questa richiesta C'è qualcuno, aiutatemi Attenzione, livello ossigeno 35% Forse sono sottoterra Milo Puoi effettuare una ricerca di DNA? Elisabeth Hansen Chiamata in entrata Pronto? LIS Siamo a corto di tempo Da cosa cominciamo? Tu hai tutte le risposte Trova il modo di tirare fuori i ricordi Voi chi siete? Perché mi fate questo? Perché mi fate questo? Troppo tardi Sono qui Interruzione Interruzione Livello di ossigeno prossimo alla soglia critica Aiuto! Ascolti La Su